Ciao a tutti tifosi e tifose, benvenuti in questo nuovo video. Per il pre-partita di Ternana Parma che giocheremo sabato alle 2 a Terni non voglio stare molto a parlare perché secondo me le statistiche lasciano un po' il tempo che trovano nei finali di stagione. Tu devi assolutamente vincere. Ternana che probabilmente qualcuno sottovaluterà ma viene da 3 gol rifilati al Palermo che aveva rifilato due partite fa 3 gol al Como e vinceva comunque 2-0 con la camionese del primo tempo poi in 10 con un nome in più si è fatta comunque recuperare quindi invulnerabile non è però comunque Ternana è in zona di retrocessione e rifila 3 peri al Barbera e al Palermo vuol dire che la squadra è tost. Poi vi ricordo sempre anche col video che ho fatto all'andata che a parte la vittoria del girone di andata appunto di quest'anno che abbiamo vinto 3-1 con la Ternana non abbiamo mai vinto anzi abbiamo preso anche 9 gol in 3 partite il primo anno di Serie B con Maresca abbiamo preso noi 3 pere e l'anno scorso abbiamo fatto 1-1 con Bernabè che si è inventato un gol altrimenti sarebbe finita il solito 1-0 che l'anno scorso si ripeteva spesso e volentieri molti pensano di essere in Genesarea ma basta veramente 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 pochissimo per rimettere tutto in discussione e ricordo che col Cosenza è iniziato il periodo dove sulla carta dovremmo avere le gare più facili e poi le ultime 5 sono con Bari, Palermo, Cremonese, Reggiana insomma non proprio in questo ordine ma comunque per far capire che è questo il momento in cui tu devi ammazzare il campionato i giocatori scendono in campo e probabilmente le colpe ce le hanno anche loro però dovuto a scelte senza senso dell'allenatore hanno detto che anche Tivo Parma sta cominciando a capire che forse tutti questi cambi sono un po' dileteri non fanno bene per niente alla squadra è una boiata quello che dice Pecchia che facendo così tieni tutti pronti ci sono modi e modi per tenere tutti pronti comunque sono tutti i discorsi sempre come un discorotto quindi vittoria 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 deve essere questo nostro mantra un saluto al prossimo video ciao